La messa, la iniziamo dopo che il parroco, Don Peluccio, ci ha dato delle indicazioni, delle grazie che lui ha detto, noi li mettiamo tutti sull'altare davanti al Signore, aggiungiamo i tanti che abbiamo personalmente ogni domenica da presentare al Signore. Eucaristia è davvero un rendimento di grazie. E rende bella la nostra celebrazione domenicale, la rende bella perché è partecipata, dove ognuno porta in un'unica famiglia, certo, ma personalmente, porta quelle che sono le ansie, i desideri, anche perché no, di gioia, come quelli anche di tristezza. Allora iniziamo questa celebrazione, abbiamo da ringraziare, e poi questa festa domenicale della nostra comunità oggi è particolarmente gioiosa, perché vogliamo accogliere un dono in più. che avvelisce questa nostra comunità, rende bella qualcosa a livello estetico, probabilmente, ma non è quella la bellezza a cui mi riferisco. Ogni volta che si cura la nostra Chiesa, la nostra Chiesa parrocchiale, ogni volta che si ha attenzione a mettere anche la bellezza estetica a servizio del nostro pregare, del nostro stare insieme, è sempre un motivo di grande gioia. E ci dice una volta di più che qui, in questa nostra casa, dove incontriamo il Signore, davvero vogliamo che le cose siano belle, perché è bello stare col Signore, è bello incontrarlo, è bello condividere, offrirlo, condividere la nostra vita. Allora iniziamo, una delle cose più belle che il Signore ci dona è il suo perdono. e noi le vogliamo.